Si è tenuta lo scorso weekend presso Villa Matarazzo a Santa Maria di Castellabate la decima edizione del premio Orchidea d'Argento. Quest'anno il fiorito riconoscimento è stato consegnato a Gianfranco Coppola, giornalista RAI e presidente dell'Unione Sportiva della Stampa Italiana, e Carolina Morace, allenatrice della Nazionale Italiana e opinionista sportiva RAI. All'evento è intervenuto oltre al presidente del Parco del Cilento, Tommaso Pellegrino, il presidente dell'Ordine dei giornalisti della Campania, Ottavio Lucarelli, e altre personalità del mondo del giornalismo e dello sport. Sono stati inoltre consegnati i premi a società sportive locali, a personalità del mondo dello sport locale e alle testate giornalistiche del territorio. La decima edizione l'abbiamo dedicata allo sport, con due grandi protagonisti dello sport italiano, due grandi esempi e due grandi punti di riferimento, come Carolina Morace e Gianfranco Coppola, che rappresentano quei valori dello sport. L'abbiamo voluto dedicare allo sport soprattutto per un motivo, perché oggi in una fase di ripartenza ci fa piacere pensare che ci siano i nostri giovani che ritornino a fare sport, a socializzare attraverso le tante attività sportive che si devono fare. Quindi ritornare, un ritorno alla normalità. Mi fa piacere che oggi con l'Ordine dei giornalisti Campani, con l'Associazione dei giornalisti Vallodidiano, con tanti giornalisti del territorio, siamo qui a confrontarci, a parlare sui temi dello sport e soprattutto a continuare la tradizione dell'Orchidea d'Argendo che ci vede ormai presenti nel territorio del parco da ben dieci anni. In questo bellissimo scenario di Villa Matarazzo facciamo questa manifestazione del premio Orchidea d'Argendo, dove premiamo con questo premio giornalistico gli sportivi che si sono distinti in campo nazionale ed in campo locale, per cui riteniamo che a loro, dopo che siamo usciti da questa pandemia, viva Dio, posso essere attribuito questo riconoscimento e posso rappresentare l'avvio di una nuova vita. Diciamo che è un grande riconoscimento per me nativo di questo territorio, Salerno, ma per me il Cilento è vacanze giovanili, è bella gente, è umanamente valida. I primi articoli e servizi realizzati, la Gelbi sono a Castellabate con il mio amico di Bartolomei, fraterno e mai dimenticato, e quindi anche vacanze col gommone da Salerno fino a Palinuro, quindi pensate che gioia per me oggi che rappresento l'Unione Stampa Sportiva Italiana come Presidente nazionale, ricevere questo premio che è veramente un premio e sempre particolare, un attestato di stima, ma questo mi riempie di gioia due, tre, cinque volte, perché amo questo territorio, stimo chi lo promuove, lo condivido con persone di grande importanza e un territorio che anche sportivamente parlando ha dato un arbitro recentemente, la Marotta, di grande qualità, giocatori come Di Giaimo, di grande spessore, si conserva un meraviglioso museo del calcio grazie alla Fondazione Polito, quindi ne sono particolarmente fiero, sperando che passata la pandemia si possa tornare a raccontare bene nello sport frequentando stadi, palazzetti, impianti e quant'altro.